Allora, che ti ho detto, la presa, guardare il pallone, il piede d'appoggio, il piede d'appoggio teso, non ho nessun tipo di elasticità, non ho flessibilità, non posso fare nessun tipo di direzione, è dura calciare così, invece, faccio questo, un po' guarda, 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 posso cambiare un calcio, in aria mi posso rendere conto di calcio diversamente, ok, la, la, chiaro, chiaro o no, però la comissione pone questo.